Avvocato Viola, che novità ci sono sulla necessità del problema di ridurre il contenzioso? Il contenzioso è un problema enorme in Italia, molti investitori non vengono in Italia perché c'è un eccesso di contenzioso che determina eccessi di durata del processo, il processo dura troppo. La riforma cartabia che è l'ultima arrivata, l'ultima che stiamo applicando, cerca di ridurre i tempi della giustizia, i tempi dei processi che sono il grande problema italiano, oggi sono stati sviluppati gli strumenti cosiddetti di giustizia predittiva che in qualche modo ci aiutano a prevedere l'esito del processo, tanto più prevediamo l'esito del processo, tanto più possiamo fare accordi, quindi possiamo lavorare per la pace e ridurre il litigio, ridurre il contenzioso. E che contributo può dare l'intelligenza artificiale e il metaverso? Un contributo enorme perché l'intelligenza artificiale permette di esaminare una grandissima quantità di dati in pochissimo tempo. Quello che l'Avvocato faceva in un anno adesso può essere fatto da un sistema di intelligenza artificiale in pochi minuti. Risparmiare lavoro da questo punto di vista vuol dire potenziare l'attività difensiva. E perché no, un domani arriveremo a tenere dei processi nel metaverso, come già sta avvenendo in altri paesi. Certo, quindi anche molto più velocemente. Assolutamente sì. Riduciamo il tempo di durata dei processi e senza sacrificare la giustizia. Perfetto, grazie. Grazie a lei.